Allora, questo episodio che è successo in Texas, te ne voglio parlare perché è interessante, perché la gente semplifica. Allora, qual è successo? Un ragazzo entra in una scuola, 14, intanto era bullizzato, ma io ovviamente non è che uno... Però era bullizzato e in America fenomeni di bullismo sono diffusissimi, c'è un tasso di violenza enorme nella popolazione, c'è una disparità sociale, c'è una rivalità sociale, per non usare un'altra parola, se no sai qua sono tutti fini, ti controllano tutto quello che dici, poverini, poverini questi qua della piattaforma, ma fatemi ridere, andate a mangiarvi un... no, andate al McDonald's a mangiarvi un hamburger mentre io faccio i video, così vi diverti. Allora, tra l'altro a me mi viene in mente Genova perché questi pacifisti sono spariti, c'è, io mi ricordo quando c'era la guerra in Iraq giustamente, bandiera della Paz, adesso bandiera della Paz, dove è la bandiera della pace? Che facevano la critica, anzi adesso la critica è alla Russia che ha chiuso il McDonald's, penso a te, ci ha messi bene, va bene comunque andiamo avanti, è fatto bene, ha chiuso, tanto ha messo su una sua catena che è uguale, fa più soldi... Allora, la Russia con la nuova... tanto sta vincendo la guerra a Zelensky, si sta calando, si sta cacando sotto, se te senti le ultime interviste trattiamo, facciamo, trema quando parla. L'unica è quella signorina dell'Europa, ma quella con gli occhiali lì, quella bionda, ma poverina. Dichiarazioni al vuoto, se vai a vedere la cartina geografica l'ha detto giustamente anche un esperto... Non mi viene il nome? Quello che va da Vespa! Oh, vabbè, comunque, ovviamente sto divagando come lo so. Parliamo di Fai, ha detto che se non gli danno il Donbass è una tragedia immane, non si sa dove si va a finire. Comunque lui è un pronato questo signore, adesso non mi viene il nome, magari in descrizione te lo ficco. Allora, perché succede in America sta cosa? Allora, perché? Loro pensano, gli americani, che la vita sia un videogame. Cioè, innanzitutto, il presidente americano Joe Biden ha detto Ah, dovremmo risolvere il problema delle armi, come se... Bullying a Columbine, ve lo ricordate? In due sono entrati, in due. E qual è il problema delle armi? Ogni mese c'è una strada, ogni mese. Io l'avevo detto anche nel video, il problema delle scuole americane. Ed si è verificato subito dopo. Primo. Poi abbiamo un altro problema. Io guardate, te guardi i video di guerra vera, Falluja, che è stata la tragedia più immane, no? Falluja, ci sono i soldati, loro pensano che sia un videogame. È presente quei videogame di guerra che ci sono? Uguale, loro vanno in giro con i pick-up giganti, fanno i giochi estremi, si tirano dal parapendio da 2000. Ogni tanto qualcuno ci... è uguale. Cioè, loro hanno una concezione della libertà, che fa schifo. Come fai a dare alla gente dei bazooka? È chiaro che succedono le strada, ma poi queste sono quelle che vanno sui giornali. Ma ogni giorno ce n'è uno, un passo che spara in giro. Perché c'è un tasso di violenza, c'è un tasso di criminalità diffusa, disparità sociale, disuguaglianza sociale. Che esiste solo negli Stati Uniti. La più grande democrazia del mondo. C'è un tasso di violenza. Poi loro hanno creato la disuguaglianza. Perché è vero, prima hanno vinto in Europa con la balla del comunismo, ma poi dopo hanno abbandonato l'Africa, è stata abbandonata dall'Occidente e muoiono tutti di fame. L'America Latina, che i signori americani si dovrebbero preoccupare, se ne sono strafottuti. Hanno fatto gli affari con le multinazionali, no? Con le multinazionali e lasciano le favelas, le persone a morire. E poi, tra l'altro, i neri, che sono una popolazione ghettizzata negli Stati Uniti, li abbiamo portati noi là, gli spagnoli. Capito? Quindi qui c'è una generazione frustrata. In questo caso era un bianco, ma non vuol dire. Era comunque un bullizzato. Uno che è armato fino ai denti, capito? Disposto a tutti. Perché hanno creato una Francia, c'è una malattia negli Stati Uniti, endemica. C'è un tasso di violenza diffusa nella popolazione. Ma che voi non vi immaginate neanche. La morte è quasi, negli Stati Uniti, è quasi come un sacrificio, capito? Cioè, ci sono delle sette dove c'è il culto della morte, ok? Ma anche l'americano, quando si immola per la bandiano, questo culto nazionalista che fa schifo, no? Fa cacare. Fa veramente cacare. Mi ricorda un po' il nazionalismo che avevamo noi in Italia negli anni venti, no? Dove si andava in guerra. Saluti, saluti, non torniamo più. Una roba del genere, capito? Quindi è una cosa della cultura americana. È vero le lobby? Poi le lobby delle larmi li hanno scorreggiato. Cos'è che gli hanno detto? Gli hanno detto, ah sì, ah sì. Cos'è che gli hanno detto? Gli hanno detto, ah sì, no, ma il problema è che lui era un criminale. L'hanno praticamente preso per il cubo al presidente degli Stati Uniti d'America.